Bellissimo! Cos'è? Un'astronave? Ma cosa stai dicendo? Questa è la chiesa di San Bernardino, la chiesa del nostro santo patrono. È un edificio religioso costruito intorno al 1600. Sulla volta ci sono i dipinti con le storie della vita di San Bernardino. I miei strumenti di bordo rilevano un evento molto importante che si è verificato in questo edificio religioso parecchio tempo fa. Ma certo, è il miracolo eucaristico. Nel 1604, a due peccatori che non si erano confessati, gli cadero le osse della lingua. Rimase addirittura il segno sul pavimento in pietra. E c'è una reliquia che ancora conserva quelle impronte. Immagino che i due che hanno fatto questo non dovessero essere molto simpatici a San Bernardino. Eh no, proprio per niente. Guarda, guarda! Andiamo, andiamo! Ciao! Ciao!